Oh, finalmente proviamo un prodotto nuovo che non è nuovissimo, diciamo concettualmente molto diverso da tutti i prodotti che abbiamo visto sul canale e mi ha sempre incuriosito veramente un sacco. Si legge bene dalla confezione che cos'è, quindi andiamo subito all'unboxing. Parto subito col dire che onestamente sono un po' stufo di tutti i laser uguali tra di loro, anche se c'è una chicca che non so se esce prima questo o prima quello che sto provando, ma quello potrebbe essere diciamo una bella differenza non tanto per il laser in sé ma diciamo per delle feature che porta un accessorio ma ne andremo a riparlare a tempo debito. Intanto questo me lo manda Geekbuying che ovviamente ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di provarlo e di portarvelo qui sul canale e questo ormai lo sapete, lo ridico ogni volta però ci tengo sempre a sottolinearlo, è solo grazie a voi che mi seguite e soprattutto che mi supportate quindi vi chiedo ancora una volta di farlo lasciando un bel mi piace e iscrivendovi al canale, spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della stampa 3D e non solo. Anche perché circa il 70% delle mie visualizzazioni provengono da persone non iscritte quindi immaginatevi se lo fossero quasi tutte. Ma a parte questi sproluochi da content creator andiamo subito a vedere che cosa c'è qui dentro. Allora qui troviamo dichiarazione di conformità e qui come potete vedere Laser Packer 2. Come vi ho detto un prodotto non uscito propriamente ieri ma secondo me molto molto valido per il suo rapporto qualità prezzo e comunque mi avevano inviato degli sconti comunque seguite il mio canale Telegram per queste cose perché va molto spesso di sconto proprio anche su Geekbuying. Comunque prima di andare a vedere questo tiriamo fuori la mini scatolina 1 e poi 1 a 2. A sto giro partiamo dal pezzo forte quindi lo scatolo si presenta molto molto carino. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Qui abbiamo manualistica. Qui dentro vediamo un po' che cosa troviamo. Allora qui abbiamo degli occhiali. Allora molto molto belli sicuramente più belli di molti altri che vediamo su altri laser. L'unica cosa che mi sento di dire è che non hanno certificazioni o altro scritte da nessuna parte neanche sulla lente mi pare di vedere. Quindi sempre il solito discorso che faccio alle aziende cioè vista soprattutto l'importanza di questi oggetti perché letteralmente dobbiamo stare lì. Sarebbe importante che ci siano delle certificazioni o comunque delle specifiche che ci garantiscano che il laser una volta che noi indossiamo questi per i nostri occhi è relativamente sicuro. Soprattutto per prodotti che costano una certa cifra. Comunque vi lascio sempre in descrizione il link ai miei occhiali che quelli sono tanta roba. Continuando qui troviamo un cavetto anzi no svariati cavetti usb. Qui abbiamo il cono protettivo che è anche dotato di ventilazione che noi colleghiamo ad un'altra usb. Qui dentro troviamo dei pezzettini per fare delle prove legno e un tocco di acciaio. E questo ovviamente ci indica che possiamo incidere su questa roba ovviamente non tagliarla. Qui dentro come ci indica anche l'immagine ci sarà un alimentatore o qualcosa del genere. Il cavo IEC tradizionale in alimentatore 12V 5A. Poi troviamo questo affare qui che non sarebbe altro che l'asse Z se proprio così lo vogliamo dire. Che è elettronico possiamo alzarlo e abbassarlo con questo sistema. Ci avrà tipo un motorino dentro da qualche parte. E infatti qui troviamo l'usb c per alimentare il tutto. La qualità comunque costruttiva è veramente su tutt'altro livello. Dopodiché ben incastonato qui troviamo la sorgente barra cervello. Ci ha sostanzialmente tutto qui dentro. Infatti qui sopra troviamo due uscite usb che serviranno sicuramente per alimentare gli accessori e l'asse Z verticale. Un usb sempre tipo C da collegare al computer. E poi ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. Molto carina questa cosa che è dotato di maniglia. Ah poi qui dentro qui sotto troviamo questo righellino in legno. Delle viti e una brugola. E poi qui troviamo la base effettiva. Anche qui montaggio super super semplice perché a noi ci basterà prendere e avvitare queste due viti a brugola. Dopodiché prendiamo la sorgente e andiamo a installarci la sua protezione. E qui abbiamo per l'appunto un cavetto usb che possiamo prendere e collegare qui per alimentare la ventola. Poi semplicemente andremo ad appoggiare qui il tutto e avvitiamo con questo comello qui sotto. E in realtà il gioco è fatto cioè praticamente è già pronta per funzionare. Mettiamo un attimino da parte questa macchinetta del caffè e andiamo a vedere questo robino qua. Allora anche qui packaging top di gamma e sempre manuali per l'uso ma a sto giro l'ho tirata fuori al contrario. Allora qui abbiamo questa specie di clamp poi vedremo a cosa serve e poi qui il supporto per sostanzialmente far girare i pezzi. Però questo accessorio ha bene o male tre funzioni. La prima è come vi accennavo prima la possibilità di avere oggetti circolari che semplicemente ruotano qui dentro e noi possiamo andare a incidere nella loro circonferenza. Ruotandolo troviamo anche questi due accessorietti che se noi avessimo un oggetto molto lungo che non ci sta qui sopra noi possiamo prendere questi due affari e metterli al distanza che ci pare anche perché sono abbastanza pesanti da reggere e noi possiamo prendere e far scorrere una tavoletta di qualcosa in questo modo. Ma la terza funzione secondo me anche quella un po' più assurda se così lo vogliamo dire è la modalità go kart. Da scherzi a parte sostanzialmente noi andremo a prendere sempre questi oggettini qua e andiamo a mettere con le sferette che come potete vedere si muovono qui sotto sono magnetiche così. in questo modo andiamo a rimuovere il laser dallo stand verticale dopodiché andiamo a prendere questo oggettino quel clamp che vi dicevo prima e non potete sbagliare perché come potete vedere gli innesti sono differenti uno è così cerchio spezzato qui mentre invece questo qui è un quadrato. Ovviamente togliendo la protezione possiamo prendere e andare a piazzarlo qui sopra dopodiché lo appoggiamo e lo avvitiamo così e se noi lo appoggiassimo con l'app noi gli diciamo che è in modalità go kart noi possiamo fargli disegnare cose molto grandi quindi noi appoggiandolo anche ipotesi qui al tavolo possiamo prendere farlo andare avanti e fargli fare tutta un'incisione lunga che anche qui lo rende un oggetto veramente iperversatile. Insomma direi di aver parlato abbastanza quindi lo vado subito a testare e ci rivediamo tra poco per le considerazioni finali. Ho avuto modo di testare un po' questo prodotto e devo dirvelo tutt'altro livello rispetto a quanto provato finora sia per quanto riguarda la qualità dell'oggetto in sé sia per quanto riguarda i risultati che porta a casa. Il suo super vantaggio come vi accennavo prima è il fatto che è super compatto e soprattutto portatile e questo ci permette di usarlo nelle più disparate e svariate situazioni. Addirittura potremmo acquistare un power bank appositamente costruito per renderlo completamente senza filo anche perché adesso dobbiamo portarci indietro questo cavo che è comunque attaccato alla corrente. A tal proposito il suo funzionamento avviene prevalentemente tramite app per smartphone ma può essere comunque tranquillamente collegato al pc con la porta usb di tipo c. Quindi una flessibilità decisamente interessante. Parlando un po' di specifiche e risultati parto col dirvi che il punto laser di una macchina tradizionale si aggira intorno ai 0,15 barra 0,10 mm. Questo qui invece lo ha di 0,05 il che lo rende veramente precisissimo e con una definizione da paura. Poi non essendo dotato di assi fisici ma bensì di due specchi che fanno puntare il laser dove serve ha anche una velocità decisamente degna di nota. Pensate che nelle passate più rapide può incidere fino a 36 cm al minuto. Inoltre vista proprio la sua velocità avremo anche l'opzione di centraggio con anteprima. Sostanzialmente è una funzione di contorno che ci darà idea di dove la lavorazione andrà eseguita e di conseguenza sposteremo l'oggetto. Questo è possibile grazie alla sua velocità boost in modalità anteprima di praticamente 3 metri al minuto. Per quanto riguarda l'emettitore effettivo si tratta di un laser a diodo blu a 450 nanometri con una potenza massima di 5 watt. Quindi nulla di eccessivo ma più che sufficiente per incidere tessuti vari come ad esempio acrilico, metallo, verniciato o acciaio inossidabile. Materiali trasparenti come il vetro o comunque riflettenti consigliano di applicare un velo di penarello o vernice. Questo per focalizzare il laser nel modo giusto. Non è uno strumento pensato per effettuare tagli impegnativi ma materiali come legno acrilico, cartone, pelle aventi uno spessore sotto i 5 mm diciamo che qualcosa riesce a fare anche in tal senso. Considerate chiaramente che se state tagliando qualcosa al centro della lavorazione tutto a posto. Mentre invece i tagli ai margini verranno quasi obliqui proprio per il fatto che il laser non è sempre perpendicolare alla superficie. Visto che l'abbiamo accennato c'è da sapere che la sua area massima di incisione è pari a 10 cm per 10 cm. Questo limite in realtà si può ampliare in determinati casi grazie all'accessorio rullo multifunzione che porta all'area massima di lavorazione a sempre 10 cm ma per 2 metri. Il rullo lo definiscono multifunzione perché ci permette di far camminare il laser su una superficie e incidere quello che c'è sotto. Oppure far muovere una lastra avanti e indietro oppure ancora incidere oggetti circolari come penne, bicchieri e così via. Pensate che addirittura c'è un profilo per incidere le lattine di Coca Cola tipo. Quello che apprezzo tantissimo di questo laser oltre alla sua ottima qualità di incisione è anche la sua semplicità di utilizzo. Tutti gli accessori si collegano grazie alle USB e USB di tipo C e comunicano tra di loro per funzionare in modo programmato. L'unica cosa che dovrete fare manualmente voi è posizionare a circa 11 cm l'emettitore laser dalla superficie da incidere e questo lo potete fare alzando e abbassando l'asse verticale motorizzato oppure in determinati casi inclinando la testa del laser per centrare un oggetto circolare magari un po' grande. Un altro utilizzo che può avere questo tipo di macchinario è a mano. In questo caso ci basterà semplicemente tenerlo premuto con la sua protezione sulla superficie che vogliamo andare ad incidere. Non importa se questa è orizzontale oppure verticale, al laser non cambierà nulla. Le operazioni di questo tipo sono agevolate dai comandi presenti sulla testa del laser che però prima vanno attivati da app onde evitare pressioni accidentali. A sinistra comunque troviamo il pulsante per avviare e fermare l'anteprima di lavorazione e a destra il pulsante di pausa e di fine lavorazione se viene tenuto premuto. Quindi in sostanza sto coso come va? Beh penso che lo avete visto nel corso delle clip precedenti che sono passate ma decisamente molto bene. Se mettete la risoluzione 2K la qualità sarà veramente ottima e merita sicuramente un plauso. Mi è piaciuto moltissimo il suo sistema di centraggio e anteprima delle lavorazioni perché vi permette davvero di posizionare l'oggetto da incidere nel posto giusto senza stare a fare prove strane o altro. Quindi diventa molto semplice e soprattutto affidabile fare oggetti personalizzati con precisione. E voi mi direte grazie con quello che costa. Verissimo infatti inizia ad essere non più un prodotto ad uso unicamente amatoriale ma sì un oggetto con cui si può già lavorare e fare alcune cosette. Che poi cosette. La possibilità di fare insegne sempre a 10 cm però per 2 metri non è proprio robetta. Quindi niente ragazzi io penso di avervi detto tutto mi raccomando se aveste qualsiasi domanda dubbio perplessità qui sotto nei commenti. E quindi niente ragazzi il video di oggi finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto e mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace iscrivetevi commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video.